A Cupello non si ferma la mobilitazione di comuni e cittadini dopo il sequestro della terza vasca dell'impianto del Civeta per la gestione dei rifiuti non pericolosi, mentre proseguono le indagini della Procura di Vasto per reati ambientali. Lo scorso 20 marzo i carabinieri del NOE, Nucleo Operativo Ecologico di Pescara, hanno infatti sequestrato preventivamente la cosiddetta terza vasca della discarica per rifiuti non pericolosi della Cupello Ambiente SRL nel polo tecnologico di proprietà del Consorzio Intercomunale Civeta in relazioni alla violazione di norme a tutela dell'ambiente e di quanto stabilito nell'autorizzazione integrata ambientale. Il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vasto nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura si è reso necessario dopo l'accertamento del conferimento di rifiuti extra-regione negli anni 2017-2018 provenienti prevalentemente da Puglia, Campania e Lazio. Una condotta questa che avrebbe portato al precoce esaurimento dell'invaso nel giro di due anni a fronte dei set previsti, con il conseguente rischio per la tenuta dell'intero sistema di gestione dei rifiuti approvato dalla legge regionale del maggio 2018. E se da una parte le indagini della magistratura vanno avanti per accertare il reato ambientale, dall'altra non si ferma la mobilitazione di cittadini adenti, preoccupati per la richiesta avanzata dalla Cupello Ambiente e società privata che gestisce l'impianto pubblico del Civeta per l'apertura di una quarta vasca su un terreno privato adiacente alla discarica già esistente che insiste sul suolo pubblico. Sulla vicenda l'Associazione Nuovo Senso Civico esprime le proprie perplessità per bocca del presidente Alessandro Lanci e dell'ingegner Tommaso Giambuzzi. Presidente, lei che idea si è fatta? Secondo lei è stata gestita male questa vicenda? Purtroppo sì, molto male. Gli impianti di stoccaggio di rifiuti urbani deve essere gestita dal pubblico secondo noi perché era la terza vasca gestita dal pubblico, è stata affidata al privato e con una cattiva gestione appunto perché ha bruciato in solo due anni la capacità che ne era prevista per sette. Adesso il privato crea una nuova emergenza perché la vasca è piena e ne vuole proporre una quarta facendo assolutamente i suoi interessi sì ma sulla pelle dei cittadini di questo territorio. Qui dicevamo anche con l'ingegnere Tommaso Giambuzzi di Nuovo Senso Civico sempre ci sarebbe anche un problema di sicurezza su questo territorio perché la discarica avvalle diciamo anche un pozzo di estrazione del gas e questa terza vasca l'estate scorso è stato oggetto anche di un incendio per il quale sta indagando comunque la procura? Sì e questo ci ha allarmato non poco perché oltre al pozzo di gas che si vede qui a pochi metri c'è anche la piattaforma di Civeta che per produrre compost produce anche biogas e quindi abbiamo due fonti, due sorgenti di gas vicino a una discarica ha preso fuoco. È evidente che c'è un problema di sicurezza, c'è stata una fortuna che è stato spento in poche ore dai vigili del fuoco. Adesso la situazione si ripresenta tale quale non è cambiato niente dall'estate scorsa e quindi c'è un motivo di preoccupazione in più oltre a quello del rispetto delle condizioni ambientali.